Buongiorno per l'aero, che belli! So che siete, mi dicevano, tra i più veloci, anzi i più veloci di Roma. Complimenti! Più efficienti! Più efficienti! Eccoci! Tre ore di incontro, Sindaca! Sì, oggi abbiamo visto tra le varie cose, direi l'aspetto più importante, che è il PUA, il piano di utilizzo degli arenili, che è praticamente quasi pronto. E quindi a breve sarà poi votato e finalmente avremo lo strumento giuridico che consente di rimettere ordine in tutto il litorale, in tutto quello che è il mare di Roma. Insomma, gli abitanti lo aspettavano da tempo, l'amministrazione ci si è dedicata in maniera molto serrata, bisogna fare ordine, bisogna riportare la legalità e mi sembra che già su tutta la zona del litorale, per quello che ho visto, è un piano ambizioso, molto bello e ci siamo.